Ciao amici, dopo aver utilizzato per un po' di tempo il MacBook Air con chip M1 e dopo essere rimasto a dir la verità sorpreso da quanto effettivamente sia veloce nell'uso che ne faccio io principalmente, quindi uso Home Office, provo a fare un test comparativo tra i tre device che vedete, che sono device molto diversi, perché quello a sinistra è il MacBook Air con chip M1, quello di cui vi ho appena parlato e che mi ha sorpreso, quello proiettato sullo schermo principale è invece un PC da salotto equipaggiato con un processore Intel, con l'Intel 11400, poi vi lascio in descrizione tutti i dettagli, e quello invece a destra è il mio notebook personale che è equipaggiato con invece un Ryzen 3700U, parliamo di una macchina con 16 GB di RAM, quello invece il PC da salotto e l'i5 con 8 GB di RAM e il MacBook Air con chip M1 ha sempre 8 GB di RAM. Scenario di test sarà l'elaborazione di un video tramite Handbrake, che è un programma per proprio codificare i video, per convertire i video tra formati diversi, e ho recuperato da internet un video in 4K, obiettivo è codificarlo con l'impostazione predefinita Production Max, che è una codifica che hanno tra quelle già disponibili e preimpostate sulla programma, questo per rendere un pochino lo scenario il più equivalente possibile, in maniera tale da testare tutte e tre le macchine su uno scenario che fosse il più possibile allineato tra i diversi hardware. quindi mi farò supportare dal fido cronometro, aspettate che c'ho qui, ok, e quindi facciamo avviare, provo a far avviare tutto velocemente, quindi cronometro, i2 e lui. Vediamo quanto ci si impiega. Allora, ok, il fisso ha terminato, il MacBook ancora è al 90%, vediamo un pochino, il fisso ha terminato, ci ha messo, in teoria, pure, ecco, 2 minuti e 45 secondi. Il MacBook è quasi arrivato alla fine. Allora, ok, ci ho messo un po' di più. Mentre questo continua a girare. Vediamo un pochino i dettagli invece del Mac, quali sono. Ci ha messo 3 minuti e 23, quindi stiamo parlando di... 23, 23, 33, 30... 38 secondi in più. Vabbè, poi vi faccio, vi metto in sovrimpressione le differenze in termini anche numeriche, quindi in percentuale quanto è stato più veloce di 5 rispetto all'M1. C'è il 3007U che invece ancora sta lavorando. Stava scrivendo i file, se Dio vuole. Diciamo oltre 7 minuti, mamma mia. Ok, allora, vediamo i dettagli anche di questo. Allora, il podio è pronto. Il podio vede in prima posizione, quindi, l'i5 che ci ha messo 2 minuti e 45 secondi. Subito dietro troviamo il MacBook Air con chip M1 che ci ha messo 3 minuti e 23 e in terza posizione con un distacco importante troviamo il Ryzen con 7 minuti e 7 secondi. Ora, vabbè, questo era... Volevo farmi un'idea delle differenze di performance e rendervi anche partecipi della cosa. Magari non è questo l'utilizzo che ne andrete a fare, non lo so, però se avete intenzione di comprare un PC provo a darvi qualche elemento in più per fare le vostre considerazioni in fase di acquisto e quindi cercare di farvi comprare il meglio. Al solito, se avete dubbi, suggerimenti o altro, lasciatemelo nei commenti e vedrò di rispondervi appena possibile. Ciao a tutti!